Manca poco più di un mese alla scadenza del bando per la locazione del Palacarelli. Si punta all'affidamento dell'impianto sportivo di via Rochester realizzato negli anni 90 attraverso un mando ad evidenza pubblica, il quarto per l'esattezza, che scadrà il 22 novembre alle ore 12 e che prevede un canone annuo di locazione ridotto rispetto a quanto richiesto in precedenza. Da poco più di 23 mila euro adesso il canone è di 18 mila. Il bando si rivolge a tutti gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici, enti senza personalità giuridica o raggruppamenti di tali soggetti, comprese le associazioni temporanee di impresa. La locazione dovrà avere una durata minima di 6 anni fino ad un massimo di 50, durata che viene rapportata all'entità dell'investimento. Così come viene spiegato anche nel comunicato del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nel caso di 6 anni è pari a 120 mila euro, aumentando gli anni cambia infatti la cifra. Ad esempio, per la durata di 20 anni l'investimento è di circa 238 mila euro. Le spese effettivamente sostenute come investimento iniziale potranno essere detratte in oltre al 100% dal canone annuale, così come si prevede la possibilità di decurtare anche delle somme che vengono destinate ad un eventuale ulteriore investimento per effettuare opere di manutenzione e rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo nel corso dei primi 5 anni dalla stipula del contratto di locazione. Per quanto riguarda le attività da svolgere al suo interno, le stesse vengono specificate nel bando pubblicato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Le attività che possono essere esercitate devono risultare conformi all'attuale destinazione d'uso e alle finalità che condussero alla costruzione dell'impianto, si legge ancora nel comunicato, e le ulteriori attività che i concorrenti avessero intenzione di esercitare devono comunque essere coerenti e compatibili con il piano regolatore generale del Comune di Caltanissetta e devono rispettare tutte le norme applicabili per le attività che si vuole esercitare ed essere preventivamente autorizzate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.